L'Aquila Calcio si gode il momento positivo, ma sa bene che tanto c'è ancora da fare. Dopo l'ottimo punto ottenuto a Macerata contro una delle formazioni più in forma del torneo, la squadra di Mister Perrone oggi è tornata sul campo per gli allenamenti. Obiettivo, continuare la scia positiva anche domenica al Fattori contro il Prato. Dopo, in settimana, venerdì sera, trasferta a Siena. Un buon momento, dicevamo, caratterizzato dalla crescita di alcuni giocatori rosso-blu. Merito del tecnico Carlo Perrone, che sta riuscendo ad interpretare al meglio le gare e a valorizzare gli uomini a disposizione. Gennaio si avvicina e probabilmente, come annunciato dal presidente Corrado Chiodi, qualche acquisto si farà, ma stando attenti a non minare gli equilibri di un buon spogliatoio. Il direttore sportivo Alessandro Battisti è soddisfatto del rendimento della sua squadra, ma di acquisti per ora non parla. Valorizza invece anche lui giocatori come Cosentini, Milicevic e Ceccarelli, che possono rappresentare, ovviamente insieme a tutti gli altri, la forza di una squadra che, anche addetta della tifoseria rosso-blu, sempre presente, sta diventando sempre più squadra. Impegno e grinta, infatti, non sono mai mancati, e l'abbraccio della curva ai suoi giocatori dopo Macerata è il segno che le cose cominciano a girare.